Grazie a tutti. Ma sei sicura di questa decisione? Ti rendi minimamente conto di che cosa comporta per noi? Certo, ma stiamo parlando di mio padre. Sì, appunto. Tuo padre? Pronto? Amore, abbiamo un problema. Sì, loro escono, ma devo rimanere a casa a fare da bagno al dono. So di non essere stato un padre semplare. Adesso basta, papà. E ti ci metti pure tu, ti ci metti. Papà, sei sempre il solito. Marco, aspetta! Che scrivi? Papà! Nonno, nonno! Papà! Ciao! Grazie a tutti.